Allora, benvenuti. Sono stati effettuati i sorteggi del secondo turno preliminare delle 16 squadre che hanno passato il turno a Gironi nel primo turno preliminare e ci avviciniamo sempre più alla Coppa Italia, 16 squadre formato griglia con partite di andata e ritorno con le 8 posizionate questo campionato di quest'anno che sta andando alla fine, quello realistico. Ci sono state delle sorprese nei Gironi. Io mai più non aspettavo. Ve le faccio subito vedere. Io ho già fatto i sorteggi con l'applicazione del cellulare. Chiaramente ho dato a ogni squadra praticamente dal gruppo 1 al gruppo 8 in ordine di Gironi, in ordine di prima e seconda, quindi il numero 1, il numero 2 per il Gironi 1, il numero 3, il numero 4, il Gironi 2 e così fino ad arrivare al numero 15 e 16 degli 8 Gironi delle prime due classificate. Io vi faccio vedere i sorteggi. Partite interessanti, come potete vedere, quello che non mi aspettavo. Comunque, formazione competizione, fase eliminazione diretta, partite di andata e ritorno, secondo turno preliminare, passeranno le prime 8, le 8 migliori, cioè praticamente 4 a sinistra, 4 a destra e andranno a fare un altro sorteggio, stessa modalità e la finale sarà andata e ritorno. Ho deciso di farla così perché mi piace di più che partita secca. Vedremo. Allora abbiamo uno Spalparma, quindi un derby. Interessante partita. Pescara-Brescia e guardate chi c'è, Cagliari-Entella. Cioè l'Entella nelle ultime due partite conclusive del primo turno preliminare a Gironi. Vi ricordate che era ultima e aveva 4 punti. È riuscita a vincere tutte e due le partite è arrivata prima e si è classificata per il secondo turno preliminare. Gran sorpresa. Quindi Cagliari-Entella, Frosinone-Benevento, un'altra bella partita, Genoa-Crotone, derby più o meno, Udinese-Verona, Ascoli-Bologna e quello che io non avrei voluto, purtroppo è capitato, Fiorentina-Torino. Giocheremo all'Artemio-Franchi l'andata. La modalità la conoscete, quindi partita andata e ritorno. Vedi? Gare di andata e ritorno. Finale decisa, ma la finale chiaramente non fa ancora parte di questo. E nessun incontro per decidere il terzo posto. Quindi questo è tutto. Io spero che, insomma, di riuscire a fare bene. Vi faccio vedere anche come giocherò. Campione 10 minuti, quindi la velocità di gioco sarà molto elevata qua, quindi sarà da ridere. Ragazzi, è tutto. Ci rivediamo nel pomeriggio per la prima partita d'andata di questo secondo turno. Voi non fate riferimento in International Cup, turno 1 andata. Lasciate stare. Preliminare, secondo turno andata. Ok? Questo è tutto. E niente, io ho già salvato, quindi possiamo anche uscire dal gioco. Vedremo, vedremo quello che succederà. Signori, alla prossima.